Non solo quelli sul calendario, quelli riconosciuti ufficialmente dalla Chiesa. I Santi, anche con la S minuscola, popolano il mondo magari a un passo da noi e a loro deve andare la gratitudine di un cristiano. Papa Francesco ha presentato così all'Angelus del primo novembre la festa di tutti i Santi per la quale presiederà una messa al cimitero del verano nel pomeriggio. Una loro prima caratteristica, ha detto, è quella di appartenere totalmente a Dio. In altre parole, hanno conservato integro durante la vita il sigillo ricevuto nel battesimo. Lo stesso ha soggiunto il Papa che ci rende figli di Dio e del quale i credenti devono essere consapevoli perché portano il cognome di Dio. Una seconda caratteristica dei Santi, ha proseguito Francesco, è che sono esempi da imitare. Non soltanto, ha detto, quelli canonizzati, ma i Santi, per così dire, della porta accanto, che con la grazia di Dio si sono sforzati di praticare il Vangelo nell'ordinarietà della loro vita. Imitare i loro gesti di amore e di misericordia è un po' come perpetuare la loro presenza in questo mondo. E in effetti, quei gesti evangelici sono gli unici che resistono alla distruzione della morte. Un atto di tenerezza, un aiuto generoso, un tempo passato ad ascoltare, una visita, una parola buona, un sorrisso. Ai nostri occhi questi gesti possono sembrare insignificanti, ma gli occhi di Dio sono eterni, perché l'amore e la compassione sono più forti della morte.